Ci sono sollecitazioni che sono venute anche oggi da questa iniziativa in direzione di una possibilità di proroga dei termini e la valuteremo con apertura, con disponibilità, già lunedì stesso io affronterò questo problema. Investire nello sport significa dare opportunità ai nostri giovani, alle nostre ragazze di poter esercitare la loro passione sportiva e di poter anche affermare i loro talenti. Noi siamo una regione che ha nello sport segnato presenze importanti e significative. Oggi con questo investimento noi puntiamo ad attrezzare il territorio, ad adeguare le strutture sportive a fare in modo che ogni giovane calabrese possa avere l'opportunità di esercitare la propria passione sportiva in luoghi, in spazi, in strutture adeguate. Contestualmente abbiamo assunto l'iniziativa con la direzione scolastica regionale di poter sottoscrivere un protocollo per aprire le palestre nelle ore extrascolastiche. Le palestre sono realizzate con investimenti pubblici, le palestre scolastiche. Nelle ore extrascolastiche è necessario aprirle perché un giovane di un comune, di una città possa avere anche nelle palestre luoghi nei quali poter esercitare le attività.